Ciao sono Mario Melena, benvenuti a Ma che menù! Ciao a tutti e ben ritrovati nella mia cucina! Oggi voglio prepararvi i gamberi allo zafferano quindi andiamo immediatamente a vedere gli ingredienti di oggi Gamberi Finocchio Cipollotti Sedano Erba cipollina Basilico Vino bianco E zafferano La prima cosa che andremo a fare è pulire i nostri gamberi Una volta puliti i gamberi con gli scarti andremo a fare il fumetto Allora useremo il finocchio, il sedano e il vino bianco e li andremo a posizionare all'interno del nostro vasetto E li metteremo il microonde a coperchio aperto a 900 watt per circa 3 minuti Ciao a tutti! 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 Le andremo poi ad inserire nel nostro vasetto di vetro. Una volta inserito il cifollotto andrò a mettere anche il basilico, l'erba cipollina, lo zafferano, i gamberi e naturalmente il fumetto. Grazie per la visione! Andiamo ad aggiungere anche un po' d'olio, il sale, il pepe e poi il fumetto. Musica Cuociamo un microonde a 600 watt per circa 8 minuti. Ora togliamo il sottovuoto. Che profumo! Musica Ecco qui i miei gamberi allo zafferano. Se vi è piaciuta la ricetta mettete un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti! Musica 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 Musica